Un momento importante anche sotto l'aspetto politico locale e nazionale? Assolutamente sì, è il primo congresso provinciale di Fratelli d'Italia. Credo che sia bello farlo a Domenia per due ordini di ragioni. Uno perché a Domenia si è tenuto l'ultimo congresso vero di alleanza nazionale e l'altro perché Domenia ha visto la vittoria del centrodestra nelle recenti elezioni amministrative. Questo è un passaggio importante per la comunità di Fratelli d'Italia perché da qui si parte per il congresso nazionale di dicembre e si dà il rilancio di quella che è la destra politica nel Verbano Cusi e Ossola. Quanti potranno essere i partecipanti a questa prima fase di congressuale? In questa fase potranno partecipare tutti gli iscritti a Fratelli d'Italia e tutte le persone che vorranno sottoscrivere il nostro manifesto di valore che appunto sarà sottoscrivibile la mattina di sabato 14 al forum di Omenia. Eleggeremo oltre a quelli che sono di diritto, cioè sottoscritto come componente dell'Assemblea nazionale a Fabio Basta che è consigliere provinciale e a Damiano Colombo che è il nostro capogruppo in Consiglio Comunale della Germania altri sei delegati che rappresenteranno questa provincia al congresso nazionale.